Questo è quello che ho trovato dopo Paullo, per andare verso Pieve Palago, per fare un giretto domenicale, due passi via, non un giretto, due passi, con la T1. Beh, visto che ho anche già preso l'acqua, adesso si torna verso Maranello, che è di là, peccato, si erano appena scaldate le gomme, vero peccato, questo è il tempo, peccato puro.